non lo sapete l'ultimo? io ho 17 anni io ho 17 anni non è che sono stato 17 a provare a fare un figlio io faccio un suo legno ci sono sinceri eh proprio la tua moglie si fa un mese e scioccata si fa più due però che mi ti voglio dire grande